E allora sono partiti da un minuto, forza ragazzi, dai! Il pallone allontanato addirittura da Palazzo, di testa, la rimette dentro la bomba! Fuori gioco! Uh, che rischio per l'Inter! Gol della Juve! L'Istainer di testa, una pennellata di Pirlo e l'Istainer da solo praticamente. L'area la mette lì sul secondo paro. Pirlo, 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 Pirlo! Bisognerebbe brindare con Borghetti. Alla sinistra, parte col suo destro, in mezzo! Non arriva per la deviazione di Llorenta, riesce a metterla ancora in mezzo Chiellini. Poi con difficoltà, allora ancora Vidal, un rimpallo, ancora Pogba! E poi il tiro! No! E' caduto! E' due! E' due! E' due! E' due! E' due! E' due! E' caduto Conte nel tempo! E' caduto! E' festeggiare! Magatrono un pazzo! E' caduto Conte! Magatrono un pazzo scatenato! E' due a zero, due a zero, Londra Moretti, dai Londra! Non è neanche Botta! Ma Cosmano ci ha uscito! Si mette a tirare dentro, per Gliorente che si gira! Ancora Pogba! E' tutto ribattuto! Il cuore! E' questa lì! E' cammina! che! che squallore vedere Conte che va lì a insoltare come se avesse vito la Coppa dei Campioni adesso vedrai Massimo Della Beffa, ci danno un rigore che non c'era così ci tappano anche la bocca tipico, no, vero Pompilio? attenzione palla che resta lì allegro un tiro, gol! gol dell'inter ebbè o almeno salviamo un po' ma ti sembra normale il pallone finisce ancora fuori rimessa da terra per noi è finita 3 a 1 viva il Gangnam Style viva il Gangnam Style forza in Italia non c'è nessuno ma quando si va in Europa si vengono va bene fermi qui grazie l'Europa non la fai ci tornerà presto io non accetto di parlare allora attenzione no no attenzione il pallone è recuperato dal Milan sì nella prova metà campo Milan che parte subito di attacco con 40 secondi e siete già tutti avanti Toro controlla abbastanza bene e riparte non si sta giocando la partita che vuole però occupano bene il campo il Torino sta occupando il pallone è buono ma ancora Immobile viene riuscito Immobile 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 con il Toro con il Toro con il Toro e con il Toro con il Toro con il Toro Immobile 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 parte da posizione irregolare Immobile parte da posizione irregolare adesso prova ad avanzare lui c'è le palla a Muntari che è a campo davanti a Seri da palla a Rami carica al destro poi le palla a Grimani il tiro di Rami Rami meraviglioso meraviglioso Rami mira che pareggia e ringraziamo chi ce l'ha portato Rami ringraziamo chi ce l'ha portato Rami ringraziavolo Rami ha fatto un gol straordinario incredibile gol di Rami Londra Moretti Rami con questa palla avanza chiede il dai e vai a Rubinio credo è dal limite Rami 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 è pazzesco ci vorrebbe un'impercettibile deviazione c'è un'impercettibile deviazione adesso muore causa allora Rami 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 guardate buono buono calma è finita è finita adesso ma stiamo facendo il cross va bene uno a uno va bene che dire è questa la è è è è è è è